buongiorno o buonasera a tutti benvenuti in questo mio nuovo video oggi vorrei parlarvi di una teoria su dragon ball super vi ricordo che sono solo teorie niente di certo iniziamo subito avete mai notato come faccia shenlong a conoscere bills se non l'ha mai visto e ogni volta che compariva per esprimere i desideri rimaneva pochi secondi e spariva forse secondo me esiste un regno dei draghi dove vivono tutti i draghi perché da come ho capito i nameciani non creano i draghi ma creano oggetti per evocarli infatti servono sette pietre a forma sferica una statua di un drago e una magia fatta da un nameciano che fa parte della famiglia del drago ed ecco qui che nascono le sfere del drago vi ricordate nella prima serie di dragon ball quando il grande mago piccolo uccise il drago shenlong secondo me non uccise il drago ma la sua statua che conteneva il suo potere infatti dopo popola ricostrui secondo me questa evocazione è simile alla tecnica del richiamo in naruto in naruto la tecnica del richiamo funziona così dopo che hai stipulato un contratto di sangue con l'animale scelto in questione per esempio il rospo l'individuo può richiamare un rospo infatti lo evoca e non lo crea e se ricordate esisteva un villaggio dei rospi e perché non potrebbe esiste un regno dei draghi dove vivono tutti i draghi come shenlong porunga e il drago dorato di super e forse per questo che shenlong conosceva bills perché vive in un altro posto e conosce bene le gerarchie dei dei forse in questo regno vivono molti più draghi di quanto pensiamo e sicuramente ci saranno di ogni grandezza e secondo me il sovrano di questo regno è il dio drago zarama quindi ricapitolando quando riuniscono le sette sfere del drago per evocare il drago ed esprimere i desideri lui dovrebbe scomparire dal suo regno e trovarsi nel punto dove sono state riunite le sfere e alla fine ritornare nel regno il video è finito spero che vi sia piaciuta questa teoria non dimenticate di mettere mi piace commentare e condividere e se volete altri video supportatemi iscrivendovi al mio canale e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati e se potete mettere mi piace alla pagina così potrei iniziare a fare qualche discussione con voi e tante altre cose grazie alla prossima